Dopo appuntamento con il Racing Podcast, dopo aver parlato alle treci del Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, parliamo invece di una gara molto più spettacolare, di un weekend che ha regalato grandissime emozioni, parliamo del terzo round del Mondiale Superbike che si è corso ad Aston al circuito del TT. Un circuito che effettivamente regala sempre delle gare coinvolgenti e mai banali perché certe gare possono accadere soltanto nel regno dei Paesi Bassi, in particolare al TT con condizioni decisamente variabili tra pioggia, sole che arriva, gare dichiarate e bagnate che poi si asciugano e viceversa, insomma le categorie coinvolte delle materie alla serie, quindi Superbike, Supersport e Supersport 300 hanno veramente offerto un grandissimo ostacolo con piazzamenti anche di un certo rilievo e di una certa sorpresa. È da un po' che non parliamo di Superbike qui sul canale, l'ultimo round analizzato era quello di Phillip Island, ebbene dall'Australia all'Olanda qualcosa è cambiato, nel senso che dopo un grande compattamento a 4-5 piloti per i primi due round, adesso sembra che due piloti abbiano leggermente allungato, ma ovviamente è ancora presto per trarre delle conclusioni, i piloti sono Bautista e Rasgattioglu, siamo comunque di fatto a un quarto di campionato, ma comunque è vero che hanno corso e vinto anche bene Bautista e Rasgattioglu, ma il vero protagonista del weekend intero di Assen è il pilota con la carriera numero 24, Nicola Spinelli, l'eroe di sabato e di tutto il weekend olandese, Spinelli da esordiente assoluto va a vincere gara 1 di Superbike, un pilota che di base correrebbe in Moto E, sostituito appunto, o meglio sostituto di Danilo Petrucci. Al termine del round dove Petrucci si è infortunato, ebbene Spinelli è stato chiamato appunto a sostituire Petrucci sul team Barney Spark, Spinelli vi ricordo corre in Moto E, campionato che deve ancora iniziare, il classe 2001 si ritrova in una griglia di partenza in undicesima posizione, quindi già è un discreto esordio così. La gara 1 è bagnata, Spinelli sceglie le gomme totalmente intermedie, quindi un grande vantaggio gli viene attribuito di fatto per i primi 3-4 giri, dal momento che tutti gli altri piloti avranno o scelte totalmente sleek come gomme, oppure con scelte intermedie, quindi con una gomma intermedia da bagnato davanti e una posteriore dietro. Il fatto sta che Spinelli ha un grande margine di vantaggio nei primi 3-4 giri, parliamo di 25 secondi, il margine però va via via riducendosi perché la pista ad Assen va via via asciugandosi, vi ho detto che le condizioni ad Assen sono state sempre più ballerine. Alla fine si arriva a 7 giri dalla fine con Bautista e Rasgatio che hanno nettamente di più di Nicola Spinelli che comunque è ancora in vantaggio di un paio di secondi, un problema tecnico però da Andrea Locatelli, ferma la gara, bandiera rossa 7 giri dalla fine per regolarmente, i due terzi di gara sono stati completati. Di conseguenza Nicola Spinelli da Atria-Bruzzo viene evidentemente incoronato vincitore all'esordio assoluto in Superbike in classe 2001, dunque si ritrova protagonista di una grandissima favola, un pilota che di fatto fino a venerdì mattina non aveva mai guidato una Superbike, si ritrova al sabato ad azzecare la scelta corretta a imprimere un buonissimo passo sul bagnato e a difendersi quando serviva. Certo ci sta anche un pochino di fortuna per vedere la bandiera rossa accostata da Andrea Locatelli ma poco importa, suonerà il canale degli italiani e lo fa con un pilota all'esordio assoluto di Superbike che si è fatto comunque ben notare non solo con una grandissima gara sul bagnato ma anche con una buona qualificazione perché da esordiente qualificarsi comunque undicesimo non è di certo male. Spinelli ha attirato evidentemente l'onore della cronaca per questa impresa del sabato appunto con tutte queste condizioni del caso ma comunque anche noi qui sul nostro canale ne diamo evidentemente adito e evidentemente onore perché raramente si vede un esordiente assoluto che in determinate condizioni fa bene. Qui appunto le condizioni sono state bene sfruttate da Nicola Spinelli che dunque si toglie questa grandissima soddisfazione di alzare il trofeo del vincitore per il team Barney Spark, team che vi ricordo è cliente Ducati quindi tendenzialmente è un team che se va molto bene fa prime 10 posizioni con costanza, se c'è un pilota buono può fare qualche podio vedi con Danilo Petrucci ma appunto non ci si poteva aspettare una grande vittoria con Nicola Spinelli appunto chiamato a studiare Danilo Petrucci che si è infortunato e lo rivedremo evidentemente a Misano al prossimo round. Questa già era la premessa per un sabato clamoroso e spettacolare perché come vedremo anche nelle altre categorie la pioggia e le condizioni mutevoli l'hanno fatta molto da padrone al DT di Assen, non così invece per quanto riguarda la domenica perché in Super Bowl Race abbiamo una gara asciutta e qui i valori vengono evidentemente fuori per quanto riguarda i due grandi pretendenti al campionato che sono Alvaro Bautista e Topar Krasgatioglu, Bautista appunto va a vincere dominando evidentemente questa Super Bowl Race, peraltro rimontando un'eternità di vantaggio su Nicola Bulega, altro pretendente al titolo del mondo Superbike quest'anno con veramente una confidenza che non gli avevo mai visto, Bulega va detto aveva leggermente finito le gomme e quindi il divario andava via via sotto gli anni, sì Bautista girava con un ritmo di media di un secondo e mezzo due più veloce rispetto a Bulega ma comunque Bautista ricordava tanto quello che ha dominato il primo mondiale vinto con la Ducati nel 2022 però comunque grande prova di forza per Bautista che avrà modo comunque di completare il podio anche evidentemente in gara 2 ma in gara 2 appunto ritorna quello che era uno dei favoriti già alla vigilia per il TDA, sono vero Topar Krasgatioglu che dopo aver vinto la gara a Barcellona sempre con la casa di Monaco che vi ricordo prima delle vittorie del Turco non vinceva nei tempi di Mikhail Vandermark quando Vandermark era un pilota di vertice evidentemente si riprende quello che gli è stato tolto in sprint race e di conseguenza dopo una grandissima rimonta arriva un pacchetto di mischi importante per il campionato del mondo, è un podio interessante quello appunto di gara 2 perché viene completato da un pilota che non aveva mai fatto un podio in carriera in Superbike, parliamo di Remy Gardner che dunque di fatto dietro ai due Big Two appunto completa il podio di gara 2, tutto questo weekend di Assen vede comunque un Bautista che arriva leader del mondiale perché Nicolo Bulega ha leggermente sottoperto in particolare in gara 2 e gara 1 che non erano le condizioni propriamente di liache ma comunque il vero MVP è sicuramente Topar Krasgatioglu che con una moto nettamente inferiore come questa BMW è vero che gli ha dato un po' di tocco per rimettere ad alti livelli ma comunque arrivare a giocarsela spesso con Bautista e la Ducati V4R Panigale che è un pacchetto sicuramente più completo assolutamente è un buon viattico per Razzgatioglu che adesso ha soltanto 6 punti di distacco prima del round di Misano che per via di calendari un po' particolari si correrà soltanto a giugno, Razzgatioglu comunque ha guadagnato delle posizioni importanti chi le ha perse è Nicolo Bulega il leader del campionato che fa solo un podio nelle tre gare di Assen e va detto che appunto però gara 1 era sul bagnato e Bulega ha fatto molta fatica e gara 2 Bulega ha sottoperformato in generale altri valori che sono emersi veramente in campo sicuramente un altro MVP della giornata o del weekend è sicuramente Remy Gardner al primo podio in carriera in Superbike, il team GRT è cresciuto molto anche con lui e infatti Assen è una pista dove l'australiano si è sempre trovato bene, infatti doppio quarto posto e terzo posto per il pilota australiano figlio di Wayne Remy Gardner peraltro nell'ultimo degli arrivati ha vinto un titolo mondiale per quanto riguarda la Moto2 appunto altra menzione d'onore sicuramente Nicolas Spinelli la grande storia di questo weekend appunto vincitore all'esordio in tutte queste condizioni del caso sull'asciutto invece poteva arrivare in zona punti non ha potuto concretizzare ma comunque già essersi fatto vedere con una buonissima qualificazione e una particolare ma clamorosa gara 1 ha evidentemente come dire secondo me fatto addrizzare un po' l'occhio degli addetti ai lavori perché Spinelli è vero che correrà in Moto2 ma secondo me merita campionati di prestigio superiori a questa categoria per quanto riguarda il resto abbiamo comunque una grandissima Italia e una classifica che appunto è sempre più corta per quanto riguarda verso l'altro per quanto riguarda le parti di midfield abbiamo un Alex Lowe che perde punti perché soprattutto paga lo zero clamoroso effettuato in gara 2 ma Alex Lowe è la corsa per questo mondiale e vediamo che abbiamo tre costituzioni in lotta per le posizioni che contano ai titoli del mondo la migliore Yamaha clamorosamente non è Jonathan Ray ma è Andrea Locatelli altra solida realtà del campionato mondiale Superbike anche se appunto Locatelli ha detto via via aumentando di prestazioni dopo una gara 1 un po' sotto le aspettative è arrivato a confermare una top 6 in gara sprint e una top 5 in gara 2 si conferma invece Andrea Iannone che comunque dopo il grande podio di Barcellona fa un appiazzamento importante in gara 2 è un po' incostante ma appunto ci si può anche aspettare che Iannone abbia dei cali visto che non correva da 4 anni bene invece la BMW ufficiale perché anche Michael Van der Mark si evidentemente conferma un pilota solido che potrebbe evidentemente lasciatosi alle spalle i problemi di infortuni chi ovviamente ha sottoperformato e in maniera clamorosa è Jonathan Ray fa veramente specie vedere il cannibale 6 volte campione del mondo 119 vittorie in Superbike finire evidentemente After The Music lui non si è mai trovato di fatto con questa Yamaha eppure gara 1 e gara 2 o meglio la sprint race di Arsenal hanno dato qualche speranza in più al nord irlandese che aveva fatto una bellissima pole position nei condizioni di bagnato e sappiamo che arriva molto forte sul bagnato in gara però non ha concretizzato e purtroppo è sprofondato anche in gara 2 insieme un po' anche a un altro pilota che mi aspettavo un pochino più in alto cioè Axel Bassani aveva puntato su lui come Kawasaki ufficiale più importante invece no Alex Lowe si è ovviamente ritrovato come un pilota competitivo non come ai tempi della Yamaha ufficiale ovviamente però evidentemente Bassani deve prenderci in misura questa Z1000 Ninja che evidentemente non è ancora adatta al suo stile di guida tutti gli altri piazzamenti li vedete la Honda continua a fare una fatica immensa non c'era le cuona perché è infortunato ha sorpreso va detto in realtà tra McKenzie pilota scozzese che sul bagnato con l'onda cliente del team Mie ha portato dei punti importanti per questo team che spesso naviga sul fondo della classifica evidentemente confermiamo che lo scozzese sul bagnato va veramente veramente forte le altre moto però sono veramente indietro la Honda è per distacco la ultima ufficiale delle 5 la BMW è una solida realtà le altre case se la possono giocare è al netto che Yamaha purtroppo al momento corre con un pilota solo e paradossalmente è più competitivo Remy Garner che Jonathan Ray e fa molto specie dirlo per quanto Remy Garner sia un validissimo pilota e per il resto BMW ha un fenomeno che era ZTO con Ducati rimane sempre il pilota e pacchetto ovviamente più completo in attesa di scavallare il secondo terzo di campionato che sarà appunto concluso da Misan Adriatico Round che si svolgerà il 14 e il 16 di giugno stesso discorso vale per le altre categorie di cui parleremo evidentemente da qui in avanti per concludere il podcast a cominciare dalla Supersport X600 una Supersport Next Gen che invece in realtà ha offerto delle gare veramente particolari con dei come dire colpi di scena abbastanza interessanti in particolare gara 2 gara 1 invece si svolge sull'asciutto e infatti i valori vengono evidentemente fuori perché Adrian Quertas uno dei favoriti a vincere il titolo del mondo quest'anno in Supersport va a vincere gara 1 e per lui suona la marcia reale in seconda posizione abbiamo Stefano Manzi che comunque era il leader del campionato praticamente fino a gara 2 però il pilota di Yamaha sottoperforma con un 22esimo posto figlio anche di aver chiamato le gomme nel momento sbagliato perché infatti gara 2 di Supersport sarà letteralmente sotto il diluvio universale il podio invece di gara 1 lo completa il pilota esperto di Yamaha Evan Brothers in team ovvero Valentin De Bees che comunque veniva già da Yamaha un passato a corso con GMT 94 invece dobbiamo celebrare la vittoria di un pilota olandese in terra d'olanda perché Glenn Van Straalen vince per la prima volta in carriera una gara in Supersport e lo fa con una grandissima rimonta dopo aver evidentemente azzeccato un passo clamoroso sul bagnato Van Straalen è uno dei piloti che cambia le gomme nel momento giusto una gara era dichiarata asciutta ma poi viene giù il diluvio universale tutti cambiano le gomme alla fine Quertas è uno dei primi a cambiare insieme appunto a Van Straalen e a Niki Tuli e sarà appunto questo il podio di gara 2 ma alla fine Van Straalen in primo è un passo molto più importante rispetto agli altri e dunque per la prima volta in carriera suona Helfield Helmus per lui davanti al pubblico di casa prima vittoria in carriera e ottavo posto assoluto in classifica per Van Straalen in seconda posizione si conferma Adrian Quertas e appunto in terza posizione abbiamo Niki Tuli pilota finlandese che ha cambiato di fatto team è passato da Triumph a Ducati ma Tuli appunto si dimostra un altro cavallo pazzo che ha azzeccato la strategia un pilota che aveva niente da perdere e che ha evidentemente azzeccato un podio veramente tanto importante è una Supersport Next Gen che comunque vede delle case produttrici veramente tanto coinvolte ha esordito per la prima volta a Barcellona la QJ Motor che però deve ancora prendere punti casa cinese la QJ Motor mentre appunto Ducati e Yamaha sono delle solide realtà ha sottoperforma un po' la Kawasaki perché già no Onku ha fatto veramente tanta fatica in questo weekend di Assen un po' meglio in gara 2 ma Onku non è al top fisicamente sorprende invece la MV Agusta che con Sofoglu Shurter e anche Kani Casulo con la MV Agusta del team MotoZo ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo è stata una Supersport parecchio interessante perché piazzamenti strani ne abbiamo uno su tutti Tom Edwards pilota australiano che corre solo le gare europee con la Ducati del team Davide Giuliano ha fatto veramente una grandissima bella gara ovviamente in condizioni particolari anche gara 1 si è svolta in condizioni di bagnato mi sto asciutto e altro piazzamento da sottolineare Luke Power con appunto l'MV Agusta la seconda del team MotoZo compagno di squadra di Federico Cari Casulo per una Supersport che comunque vede un campionato del mondo veramente tantissimo equilibrato con quattro piloti letteralmente in quattro punti e questi piloti sono Quertas su Ducati Manzi su Yamaha Yari Montella su Ducati che era il leader del campionato praticamente fino ad Assen ma poi ha sprofondato in classifica Montella una mezza delusione di questo weekend di Assen ed è terzo e il quarto pilota è Marcel Schroeter con l'MV Agusta ma l'MV Agusta è una solida realtà abbiamo tre moto italiane di questa casa nelle prime sei posizioni quarto, quinto e sesto con Schroeter Cari Casulo e Sofoglu ha corso anche la Supersport 300 una delle categorie più spettacolari di questo panorama della Superbike dell'evento della serie ammetto che potrebbe essere l'ultimo anno di questa categoria entrante siccome abbiamo sia il Mondiale Femminile che parte quest'anno sia la Yamaha R3 Cup stesse cilindrate con categorie di supporto probabilmente un po' più proprietari rispetto a questa 300 che comunque vede un nuovo leader del campionato ovvero lo spagnolo Sucavazio che vince due gare su due gare veramente di volata che evidentemente corrispondono al copione della Supersport 300 quindi una sorta di moto 3 gigantesca con evidentemente macelli di piloti qui solo quattro case coinvolti che sono Kawasaki, Yamaha, KTM e la COV squadra cinese anche se ovviamente nessuna di queste va a podio a parte appunto Kawasaki e Yamaha perché in gara 1 abbiamo una tripletta spagnola completata da Unai Catarajud al proprio podio in carriera e Inigo Iglesias pilota spagnola di ritorno dalla Moto3 invece il podio è un po' più evidentemente variegato nonostante Moheda vada a vincere questa gara di gruppo in seconda posizione abbiamo Loris Veneman pilota olandese di casa e terzo Peter Svobo da pilota della Repubblica cioè comunque si sa il terzo posto assoluto in classifica del campionato del mondo 8 round per la Superport 300 che però comunque è ancora molto molto in discussione ogni gara può riservare dei piazzamenti parecchio interessanti basti pensare che il leader del campionato Jeffrey Buis che per la prima volta ha vinto il campionato del mondo Super Sport due volte in carriera qui non ha fatto punti perché in gara 1 si è steso ed è stato purtroppo investito un altro pilota non ha partecipato in gara 2 ma è un pilota che su quella KTM può fare assolutamente bene potrebbe essere il primo pilota a vincere due titoli del mondo su o meglio tre titoli del mondo su due moto diverse però appunto tra Misano e l'ultimo round che ci sarà a Rez della Frontera con un modo di vedere una Superport 300 veramente tanto competitiva con tanti piloti giovani pronti evidentemente a fare il salto nel derivato della serie delle categorie superiori questo dunque è il resto in patria per quanto riguarda la Superbike categorie di contorno un weekend di Aslan sicuramente bellissimo da vedere ci sarebbero tantissime altre cose da dire ma evidentemente non ci si può stare in un video molto breve come questo in ogni caso fatemi sicuramente ne pensate soprattutto nel campionato Superbike che è uno dei più competitivi dal punto di vista di case di regolamenti di piloti che se la possono giocare Bautista e Raziatrogui sembrano quelli più indirizzati verso il titolo del mondo Superbike chi vedete favorito tra i due nell'ottica del round di Misano fatemelo sapere in un commento qui sotto in effetti e vedete le vostre opinioni a caldo e saluto da parte di Matthew Thorgard ci sentiamo per un prossimo video Grazie Grazie